Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Filippili per un incidente adesso si sono formati 5 km di coda tra Empoli-Ovest e Santa Croce-Sull'Arno in direzione Livorno e 2 km di coda tra Santa Croce-Sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!